Voglio rispondere a Cyrus riguardo che gli sports non sono videogiochi Sono d'accordo con te, ti racconto la mia esperienza che mi dispiace Io ho comprato Counter Strike Go perché comunque appassionato di Hidden and Dangerous Un gioco che ormai è scomparto dai radar Quello che si più avvicina a un Hidden and Dangerous 2 è Counter Strike Go Problema che io Counter Strike Go l'ho acquistato 3 anni fa Quindi 3 anni fa Counter Strike era già uscito da un bel po' Quindi le persone ci avevano già stragiocato E mi è capitato questo problema che io da Nabbo Nonostante che entrassi nella Lega dei Nabbi a giocare di livello uguale al mio Mi sono trovato con delle persone che avevano già alle spalle 50 partite, 70 partite E mi sono trovato a essere offeso perché non sapevo giocare Non sapevo che cazzo succedeva, non sapevo i comandi di gioco Perché non c'è un cazzo di tutorial decente in quel Counter Strike Passavano il tempo a insultare e io posso capire se sono scarso Lasciatemi nella mia scarsitudine giocare a cazzo di cane e pazienza No, passavano il tempo a insultarmi E io con voi che mi insultate, come cazzo faccio a giocare? A impegnarmi a provare di giocare bene? E poi, perché devo giocare per forza ad alto livello? Io sto lì per cazzeggiare, per divertirmi un po' Come facevo all'epoca con Hidden in Dungeons 2 Quando non volevo fare le competitive Mi toglievo il mio rango dal nickname Perché all'epoca non esistevano i ranghi ufficiali Cioè praticamente i ranghi venivano dati attraverso un forum Tu facevi parte di questo clan Con l'etichetta davanti al nome E gli aggiungevi l'etichetta del tuo clan Più il grado nel tuo clan Che veniva dato attraverso dei forum Attraverso dei meccanismi molto manuali, spartani Molto militareschi Attraverso i forum ti davano il grado Quindi si livellava per esperienza reale Cioè c'era una commissione che diceva che potevi salire di livello Ed era fantastico Non come ora che ci sono tutte queste cazzo di meccaniche Ti dico se livello 20 Ma io effettivamente sono scarso come la merda E sto giocando con dei livelli 20 Che non sono scarsi come la merda Per dire Ed era fantastico Hidden in Dungeons 2 A questo motivo Quando volevo giocare amatoriale C'erano i server pubblici a cazzo di cane Dove io entravo senza il nome del clan E senza il mio grado di soldato Quindi lì in questi server Noi giocavamo tutti spensierati Mi ricordo che era bellissimo Ci allenavamo Cioè ci divertivamo a giocare per allenarci Poi Quando c'era il giornata di guerra O c'erano gli allenamenti ufficiali del mio clan Era l'orario che io mi mettevo Sapevo tutti Eravamo serie Ci mettevamo e giocavamo Così avveniva Second Life nel gioco del calcio E così in tanti giochi online dell'epoca Quando non c'era tutto il sistema basato sul multiplayer Quando il multiplayer ce lo creavamo noi O stando server O stando server e quant'altro Come ho detto Quindi io Più che dire che è tossica la comunità Per me è colpa dei programmatori Perché come mai all'epoca non era così tossica la community Proprio perché ci avevamo queste regole interne Invece ora è l'azienda Che ti spinge a dover giocare competitivo A spendere soldi A impegnarti E' un circolo vizioso Però quelli come a me Come per esempio io Vaffanculo Counter Strike L'ho abbandonato E non ci entro più manco a morto a Counter Strike Quando invece Io ho pure riprodotto a spendere soldi E quant'altro Come ho fatto con i The Dungeons Che mi compravo tutte le espansioni all'epoca Invece facendo così Mi hanno punito Ma forse sono io che non spendo Quindi sono un utente inutile per loro Però è proprio colpa dei programmatori Non è colpa dell'utenza Per me è colpa dei programmatori Perché il sistema è fatto tutto per renderti competitivo E per spendere soldi per migliorarti Sempre là si va Per spendere soldi per essere migliore Spendere soldi per essere migliore Accumulare casse per guadagnare soldi Per essere poi migliore Tutti i giochi online ormai sono così Sono tutti spinti alla competizione Invece prima Non esistendo la competizione Ce la creavamo E quindi c'era tutto più sciallo Funzionava come se io volevo giocare Come ho detto prima Dietro il campetto della mia parrocchia Me ne andavo su un server pubblico del cazzo Senza il nickname del clan Quando volevo andare in guerra Entravo col nickname del clan Quindi quando volevo giocare a calcio da professionista Andavo allo stadio da professionista A giocare Prima funzionava così Ora invece non esiste Stiamo tutti mischiati Professionisti Giocatori fossilizzati Che pure se non sono professionisti Ma vogliono diventare competitivi Quindi si stanno allenando Per diventare competitivi Ed è questo un errore grave Ok questa è la mia risposta Bella Spero che sia stata semplice e coincisa Ciao 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 Ciao